Good morning, anche se direi sempre buon pomeriggio perché qui sono le due meno un quarto Mister, Master, Maestro Oh semplicemente, oh semplicemente David, Lynch It's January 27, 2022 And it's a Tuesday here in Naples, 46 and half finite, around 8 celsius And this means that è quella giornata veramente, 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 veramente fredda Penso anche oltre la media, quindi fa veramente freddo Però invito sempre a vedere il mio video sul freddo, ma sto ripetendo sempre da giorni che ho fatto qualche settimana fa Per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo Perché è impossibile Ma appunto quantomeno di combattere Per quanto riguarda Il video sui pensieri Eventualmente lo faccio sempre separato da questo Anche se non lo so oggi se lo faccio perché non ho molto da dire Potrei anche scrivere in descrizione i pensieri nel report Vediamo un po' Ben, serie di oggi Anyway, as you just see from the window Dopo apparirà più tardi il sole, adesso è un po' presto, qui dove il sole è qualcosa Ma comunque We have Si vede che abbiamo Cioè, lo abbiamo proprio Che comunque è già Sono quasi le due qui Those beautiful blue skies and golden sunshine All along the way Cioè qui Comunque un altro paio di ore Visto che verso le 4 o le 5 ovviamente Faranno Bene così Spero che continuiamo con questo trend E va avanti da diversi giorni Cioè, quattro giorni Che dire in questo Say this So, from the mythical window Under the color at the curtain Sublime è oggi, nulla da dire And it's Biiiiiii Roller shooter Behind me On the top And finally From my mythical keyboard Yamaha Digi X640 IPG IPG 625 Have a great day In all the people Follow the channel The reports Un saluto Sì Un saluto veramente a tutti Mi raccomando Il video sui pensieri Sempre separato da questo So again Have a great day In all these people And everyone too Cazzo Yousef Sei sempre mitico Have a great day